buonanotte a tutti allora in questo video intanto ho salutato in italiano quindi ogni tanto saluto anche in italiano in questo video andremo a vedere con l'ausilio l'aiuto della lavagnetta come arrivare all'emotività zero nel trading sportivo nel trading finanziario con poche ma poche ma buone regole da seguire che ho messo tutte quante nella lavagnetta è fondamentale arrivare ad avere l'emotività a zero nel trading finanziario e nel trading sportivo con l'emotività a zero le cose cambiano radicalmente per quanto concerne lo stress la pressione la tensione tante problematiche a livello mentale che si instaurano ma bando le ciance vado a prendere la lavagnetta e vediamo quello che già scritto nella lavagnetta allora emotività a zero miglioro continuamente il mio piano meno varianze negative aumento i guadagni siccome non me lo sono studiato accuratamente prima l'ho dovuto leggere ovviamente l'ho scritto io personalmente allora andiamo quindi ad approfondire questa prima schermata nel momento in cui io arrivo ad avere una componente emotiva emotiva pari a zero miglioro radicalmente il mio modus operandi arrivando ad avere l'emotività zero io ho un piano di lavoro che andrò continuamente a migliorare con nuove regole con un miglioramento di determinate regole la cancellazione di alcune regole di alcune voci che ci sono in quel piano di lavoro e quindi il piano di lavoro andrà continuamente settimana dopo settimana a migliorare migliorando il piano di lavoro le varianze negative e i relativi drawdown fondamentalmente quindi periodi no con i relativi drawdown saranno il miglioramento migliorando questi due passaggi andrò a migliorare i miei guadagni i miei guadagni saranno più alti piano piano andrò a guadagnare sempre di più tutto questo è possibile nel momento in cui porto l'emotività a zero arrivando ad avere questo modus operandi questo tipo di progettualità arriverò necessariamente ad avere l'emotività a zero perché nel momento in cui entra in gioco l'emotività so che tutti questi progressi appena citati vengono meno e sono problemi seri se vengono meno però c'è un però nel senso che spesso e volentieri i trader hanno delle difficoltà a guadagnare e quindi sì va bene seguo il piano di lavoro sì va bene allo migliore in continuazione tutto quello che hai appena detto è vero me ne rendo conto ma faccio fatica a guadagnare perché non ho la pazienza di aspettare di sviluppare un buon piano di lavoro di sbattere un po la testa di fare degli errori inizialmente di avere la fase di apprendistato che è fondamentale nel trading sportivo non ho la pazienza voglio tutto e subito un po come i tifosi con le squadre di calcio non hanno la pazienza se vincono spesso e volentieri diventa scontato e poi magari le prime difficoltà fischiano e contestano una determinata squadra oppure entra una nuova proprietà in una squadra e già dopo due anni vogliono vita morte e miracoli è così vogliamo tutto e subito vogliamo arrivare al punto senza la minima progettualità senza un piano senza andare con calma senza seguire dei passaggi nella fase di apprendistato nel trading sportivo è fondamentale dobbiamo apprendere piano piano faremo degli errori sbatteremo la testa avremo delle perdite anche più normale nel momento in cui finirà questo rodaggio questa fase di apprendistato le cose miglioreranno sensibilmente però siccome mi rendo conto che inizialmente molti trader hanno delle difficoltà perché non arrivano a guadagnare e allora andiamo a semplificare anche la parte operativa con uno schema molto semplice molto facile che ho narrato meglio sintetizzato una sintetizzato nella seconda parte della lavagnetta divido il mio budget per tipo di operatività ad esempio con mille euro 400 in dutching 300 in light draw e 300 in underdog 0.5 il rischio 0.5 per cento il rischio iniziale quindi siccome a livello operativo inizialmente arriverò ad avere delle perdite quantomeno gioco con un piano di lavoro ben 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 diviso per il tipo di operatività quindi dutching light draw e underdog separati completamente separati come se fossero tre mondi distinti che non entrano in contrasto tra loro anche se vado ad acciare una partita ad esempio atletico levante e nel tempo stesso ci faccio pure l'underdog però devo tenere le cose assolutamente separate nella maniera più assoluta in questo modo andando a suddividere il budget in questa maniera con un rischio molto basso dello 0.5 per cento inizialmente devo prendere confidenza con il mio modus operandi devo prendere confidenza con quello che sto facendo quindi il rischio lo andiamo a ridurre al minimo in modo tale che non ho una pressione la tensione lo stress con lo 0.5 per cento non ce lo posso avere è un rischio molto basso anche se ho delle difficoltà nel dutching dovrei avere poi nel tempo stesso delle difficoltà nel dunderdog e delle difficoltà nell'ide draw cosa che umanamente parlando è complicato nello stesso identico periodo avere tutte e tre le operatività in difficoltà avendo un rischio molto basso dello 0.5 per cento anche se vado in difficoltà nel dutching ho magari delle soddisfazioni nell'underdog o delle soddisfazioni nell'ide draw o magari ho una semplice soddisfazione nell'underdog con delle difficoltà sull'ide draw e sul dutching o viceversa possiamo rimescolare le carte in continuazione inizialmente avrò delle difficoltà in più rispetto alla norma ma già quando comincerò a vedere dei risultati positivi quantomeno in una di queste tre operatività avrò comunque sia dal punto di vista del morale e sarò insomma in una situazione abbastanza gueta tranquilla perché comincerò a vedere dei frutti quantomeno in uno tipo di operatività le operatività che non sono andate bene che non stanno andando bene le vado a prendere le vado ad aprire come una scatoletta di tonno direbbe qualcuno e vado a vedere quali sono i problemi vado a migliorare il piano d'azione il piano di lavoro il mio modus operandi in quelle operatività vado a vedere dove sto sbagliando se sto sbagliando qualcosa e poi lo vado a rivisitare tutto quanto e vado a modificarlo vado a migliorare il piano di lavoro in continuazione devo sbagliare sempre di meno devo arrivare ad avere un piano d'azione di un certo tipo di un certo peso di una certa competitività deve essere bello quel piano d'azione e mi deve portare dei risultati se ho già un'operatività che comincia a andar bene ho un morale che comincia un attimino ad avere ad essere nella giusta strada no ad essere nella giusta direzione e con questo modus operandi quindi arrivando ad avere questo modo di fare inizialmente bene o male l'emotività viene portata a zero con l'emotività a zero le cose migliorano sensibilmente inizialmente non devo avere la pressione del risultato del guadagno anzi il guadagno devo proprio metterlo da parte devo seguire uno schema devo seguire una logica devo seguire un piano seguendo il piano nella maniera giusta i risultati arrivano ma devo come un robot come un cyborg di classe 1999 devo seguire il piano quello è il piano e lo devo mettere in atto quel piano deve essere migliorato in continuazione con un rischio molto basso dello 0.5% tutto questo è possibile devo darmi del tempo è una fase di apprendistato inizialmente perderò inizialmente sbatterò la testa inizialmente arriverò ad avere delle magrissime soddisfazioni non magre, magrissime lo prenderò in quel posto in continuazione probabilmente a livello iniziale per poi piano piano cambiare switchare arrivare ad avere un'operatività sempre più competitiva sempre migliore ma diamoci del tempo diamoci del tempo per arrivarci piano piano ci arriviamo e inizialmente giochiamoci su questo piano di lavoro viviamola come un gioco è un gioco complicato è difficile è un labirinto sono all'interno di un palazzo ci sono delle stanze chiuse a doppia mandata e devo trovare il modo per aprire quelle stanze chiuse a doppia mandata per arrivare a questo devo impegnarmi inizialmente non sarà facile trovare la chiave giusta ma se mi do del tempo necessario per arrivarci ci arrivo questo tutto questo porta ad avere l'emotività a zero nel momento in cui ho una certa confidenza con queste operatività ne includo delle altre e quando arriverò ad essere bravo con queste operatività l'emotività sarà a zero e quindi potrò aumentare anche il rischio a seconda del capitale a seconda delle esigenze a seconda della confidenza a seconda di come sarà il mio diario di betting exchange piano piano andiamo per gradi e per gradi ci si arriva ad avere dei risultati importanti nel betting exchange a seconda